Musica Sono tornato volentieri qui a Sovvirio a Mannelli per l'occasione dell'intelligence d'estate perché veramente sono tre giorni di confronto aperto, sono utilissimi per capire, per approfondire, per capire la mente e per soprattutto cercare di diffondere il tema dell'intelligence che è sempre più importante e sempre più pregnante. Quindi grazie, grazie al professor Caligiuri, credo che queste iniziative abbiano un grande valore non solamente scientifico e spero che l'edizione del prossimo anno sia sempre più spumeggiante per cercare, ripeto, di diffondere e di capire meglio questa fantastica materia. Grazie 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 Grazie